Ciao a tutti, oggi vedremo come ammazzare il tempo. State pronti, vi parto. Naturalmente non è facile ammazzare il tempo, bisogna prima trovarlo. Fra lavoro, amici e altro, non si riesce mai a trovare questo cazzo di tempo per ammazzarlo. Bisogna cercare bene, però non demordete mai. Qua non c'è, no, non c'è. È difficile, è difficile trovare questo cazzo di tempo da ammazzare in qualcos'altro. Qua non c'è nemmeno, no, no, nemmeno qua. Cazzo, portavolo. Se pensate che il tempo non va nella cucina, vi sbagliate di grosso. Niente, 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 niente. Cazzo, ma l'ho visto una volta. No, non c'è nemmeno qua. Andiamo all'ultima stanza e vediamo se lo troviamo. Ora faremo una trappola. Ci staremo buoni buoni, zitti zitti, fino a quando lui si sentirà sicuro e andrà in giro. Ce la potremo fare. Ora io mi metto qua sotto, nascosto, e vedremo cosa succede. Cazzo è lui! L'abbiamo preso finalmente, il tempo da ammazzare. Finalmente abbiamo ammazzato il tempo. E un'altra giornata è passata. Ciao a tutti.